Quasi 6 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate nel 2012 nella provincia di Piacenza. È uno dei dati che meglio fotografa la crisi che continua a investire nel nostro territorio, scosso da casi drammatici come quello dell'Atlantis. A renderlo noto è uno studio della CGL Emilia-Romagna. Nello scorso anno, da gennaio a dicembre, le ore di cassa integrazione che hanno interessato operai e impiegati delle aziende piacentine sono state 5.950.000, 150.000 in più rispetto al 2011. In salita, quelle ordinarie, passate da 1,5 milioni del 2011 a oltre 2 milioni. Netto aumento anche per la cassa in deroga, riservata cioè alle imprese di piccole e piccolissime dimensioni. Si è passati da 1,7 milioni a 2 milioni. Unica calare è la cassa integrazione straordinaria, scesa a 2,7 milioni di ore del 2011 a 1,9 milioni dello scorso anno. Un dato però che non può essere letto positivamente. La fine della cassa straordinaria, infatti, ha costretto molte imprese ad aprire procedure di mobilità, con il licenziamento dei dipendenti. Impietoso il confronto con il periodo 2005-2008, quando le ore complessive non avevano mai toccato quota 800.000. Il record provinciale si raggiunse però nel 2010, con 8 milioni di euro totali di cassa integrazione autorizzate. In Emilia-Romagna, le ore autorizzate complessivamente nel 2012 sono state 92 milioni, particolarmente colpita la provincia di Modena devastata dal terremoto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.